Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva su Facebook. Vi lascio nell'info box il link. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 29 novembre 2014, ci troviamo nel comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Veronica Panarello accompagna suo figlio di otto anni, Loris Stival, a scuola. Le maestre però affermano che quel giorno Loris non si è presentato a scuola, né è stato visto entrare nell'istituto da nessuno. Veronica, verso le 13, si reca alla stazione dei Carabinieri di Santa Croce Camerina per denunciare la scomparsa del piccolo Loris. La donna ha portato suo figlio a scuola, ma quando è tornata a prenderlo, non l'ha trovato. Le ricerche vengono subito avviate. Ai cani delle unità cinofile viene fatto annusare il pigiamino che il bimbo ha indossato la notte precedente. Dopo una breve perlustrazione per le strade del centro del paese, gli addetti ai lavori ampliano le ricerche verso le periferie. Purtroppo è Orazio Fidone, un cacciatore, a trovare il corpo senza vita di Loris, a Scoglitti, località del Ragusano che dista 3-4 chilometri dalla scuola di Santa Croce Camerina, frequentata dal bambino. L'uomo, stando alla sua dichiarazione, non si trovava lì per caso, si era mobilitato per dare una mano nelle ricerche. Il cacciatore spiega che era seduto sul divano a guardare la televisione, quando la moglie gli ha chiesto di organizzarsi con altri cacciatori per aiutare a cercare il bambino scomparso. Orazio però non chiama nessuno, si alza, esce di casa e si dirige distinto verso una zona in cui è presente un vecchio mulino. Arrivato, si affaccia su un canalone di cemento, posto in un appezzamento di terreno a ridosso di un canneto, a circa 200 metri dal mulino abbandonato, e scorge il corpo del bambino esanime. Prima grida a squarciagola, poi chiama i carabinieri. Sono le 16.55. Nelle prime fasi di indagine i carabinieri non escludono nulla, la dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire. Potrebbe essere stato un incidente, ma anche essere avvenuto un fatto croento. La scientifica e il medico legale nel frattempo procedono con i rilievi. A quanto pare non è la prima volta che il piccolo si allontanava da scuola per marinare le lezioni, e la distanza tra l'istituto e il luogo in cui è stato ritrovato senza vita è tale da poter essere percorsa a piedi. Il bambino però potrebbe essere stato portato lì da qualcuno. Ad un primo esame, il corpo del piccolo Loris non presenta segni evidenti di traumi esterni importanti, tranne una piccola lesione e un ematoma sul volto, e sarebbe morto diverse ore prima del ritrovamento. Quando il personale del 118 è arrivato, il corpo presentava un rigor mortis avanzato. Questo porta a ipotizzare che il decesso possa essere avvenuto in tarda mattinata. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e omicidio volontario contro ignoti, a titolo precauzionale, in attesa degli esiti definitivi dell'autopsia. Intanto viene interrogato il padre di Loris, Davide, per acquisire elementi utili sulle abitudini del figlio. L'uomo è arrivato a Ragusa soltanto nella tarda serata del giorno prima. Fa l'autotrasportatore ed era fuori regione quando è accaduto il tutto. Chi lo ha visto racconta di un uomo disperato. La mamma non è ancora stata sentita perché è sotto shock. Lo zainetto del piccolo non è stato trovato accanto al suo corpo, né trovato lungo la strada. È blu, a forma di ovetto, con delle cinghie gialle. Una delle maestre descrive Loris come un bimbo intelligente, vivace e molto socievole che andava d'accordo con tutti. Il primo novembre arriva una certezza. Loris è stato ucciso. Secondo l'autopsia, il piccolo è morto per asfissia da strangolamento mediante un laccio di plastica di quelli in uso tra gli elettricisti e il suo corpo sarebbe stato scaraventato nel canale da un'altezza di tre metri e mezzo. Dagli esami autoptici, il bambino presenta dei graffi al collo e al viso che potrebbero essere stati provocati dal laccio utilizzato per strangolarlo, ma anche da unghie. Si ipotizza che sia stato ucciso tra le 10 e le 10.30, non lontano da dove è stato trovato, poiché le lesioni causate dalla caduta nel canalone, profondo un paio di metri, si sono prodotte, secondo il medico legale, subito dopo la morte. In quest'ora, intanto, continuano gli interrogatori di parenti e amici conoscenti e vicini di casa del ragazzino e dei suoi familiari. Gli investigatori puntano a sentire la sua cerchia di conoscenze convinti che Loris non sarebbe andato via con uno sconosciuto. Veronica ha lasciato suo figlio Loris a scuola davanti al cancello alle 8.30. Quando è tornata per riprenderlo alle 12.30, il bambino non c'era. Una bambina di 10 anni che frequenta la stessa scuola di Loris sostiene di averlo visto scendere dall'auto e allontanarsi verso un chioschetto per comprare un panino. Secondo gli inquirenti, il bambino è stato preso davanti alla scuola da qualcuno che conosceva. Si ritiene poco probabile che Loris sia salito su un'auto sconosciuta di sua spontanea volontà, in quanto era un bambino sveglio, molto intelligente, ma anche un po' chiuso. Non dava facilmente confidenza. Intanto l'auto del cacciatore che ha ritrovato il corpo di Loris è stata sequestrata dalla polizia, in quanto il veicolo era in zona e tutta l'area del ritrovamento è sotto sequestro. Il 2 dicembre emerge che il cacciatore Orazio Fidone è indagato in quanto in casa sua gli inquirenti hanno trovato migliaia di pallottole, anche da guerra, detenute illegalmente. Inoltre l'uomo non ha la licenza di caccia. C'è un'altra stranezza. Santa Croce Camerina è una città piena di telecamere. Ce ne sono ben 40 disseminate nel piccolo territorio comunale, grazie a un progetto europeo sulla sicurezza, senza contare quelle di negozi e banche. Eppure, nelle riprese fatte, il giorno della scomparsa di Loris, che vengono passate al setaccio dagli inquirenti, frame dopo frame, il volto, o quantomeno la sagoma del bambino, non appare mai. C'è la madre Veronica, di 25 anni, che dichiara di averlo visto l'ultima volta alle 8.30 di sabato mattina, quando lo ha accompagnato a scuola. E in qualche immagine dove si vede l'auto, fa capolino anche il fratellino di Loris, Diego, di 4 anni, che la donna ha accompagnato in una ludoteca nella stessa mattinata. Ma di Loris non c'è nessuna traccia, almeno nessuna traccia visibile. Questo fino al 3 dicembre, quando un video di sorveglianza pescato in un oceano di filmati sembra mettere in dubbio la versione data da Veronica. Sono le 8 e un quarto. Veronica Panarello esce di casa con i due figli. I tre salgono in macchina e si avviano in direzione della scuola. Ma una volta arrivati, Loris non scende. Pochi minuti dopo, viene ripreso mentre scende dall'auto della mamma proprio sotto casa e si avvia in direzione del portone. Veronica a quel punto sale in macchina con il più piccolo e si dirige verso la ludoteca dove lascia il bambino. Ci sono quindi effettivamente dei frame che inquadrano Loris mentre si allontana dall'auto della madre ed esce di scena. E altri che mostrano lei che mette in moto e parte soltanto con il più piccolo. Le registrazioni delle telecamere rivelano comunque che Veronica ha raccontato una bugia poiché finora ha sempre detto di aver lasciato il figlio maggiore vicino alla scuola o davanti al cancello della scuola. La madre di Loris è stata interrogata per tre ore in questura come persona informata dei fatti e il giorno successivo a casa sua è stato eseguito un cosiddetto accertamento urgente. In pratica una perquisizione che però tecnicamente può essere fatta anche senza che la donna sia indagata. Tra il materiale sequestrato ci sono alcuni quaderni e il diario del bambino. Viene confiscato anche un computer. Viene perquisita anche la casa di Orazio Fidone il cacciatore che ha trovato il corpo di Loris. L'uomo è indagato come atto dovuto dalla procura di Ragusa per sequestro di persona e omicidio oltre che per detenzione di munizioni. Intanto una vigilezza del comune di Santa Croce Camerina che era in servizio davanti alla scuola elementare del paese il giorno in cui è scomparso Loris si fa avanti. La donna è stata sentita dagli inquirenti e dagli investigatori che indagano sulla morte del piccolo. Ha visto quella mattina la poloniera con a bordo la madre di Loris ma non si ricorda del bambino. Le indagini continuano serrate e si concentrano sempre di più sull'ambito familiare e in particolare sulla madre dopo che le sue affermazioni sono state smentite dai video. Ci sono almeno tre incongruenze nei due verbali firmati da Veronica Panarello. Nelle dichiarazioni del 29 novembre messe a verbale alle 20 e 30 a quattro ore dal ritrovamento del cadavere del figlio Veronica Panarello dice di aver lasciato il figlio a circa 500 metri da scuola ma in quello successivo del 30 novembre attorno alle 17 fa mettere a verbale oltrepassavo l'ingresso della scuola svoltavo a destra per via di Vittorio e mi fermavo a poche decine di metri dall'ingresso della scuola. La seconda incongruenza riguarda la sua partecipazione al corso di cucina al castello di Donna Fugata. Nel primo verbale la donna afferma infatti che accompagnato il figlio piccolo alla ludoteca è andata al castello di Donna Fugata dove è rimasta fino a mezzogiorno. Nel secondo verbale Veronica fornisce un'altra versione racconta che una volta lasciato il figlio più piccolo in ludoteca è entrata a casa per sbrigare delle faccende domestiche. Alle nove e un quarto è uscita di casa ed è andata al castello di Donna Fugata dove è rimasta fino alle 11.45. Poi c'è la vicenda del sacchetto dei rifiuti che la donna avrebbe gettato invece viene considerata strana dagli investigatori perché nel primo verbale la donna non ne fa alcuna menzione mentre ne parla solo nel secondo. Tra l'altro il sacchetto sarebbe stato gettato in un punto piuttosto vicino al luogo dove è stato trovato il corpo di Loris e in direzione opposta rispetto alla scuola. Agli investigatori non sono passati inosservati i problemi della madre di Loris Veronica Panarello ha vissuto un'infanzia complicata. Un rapporto difficile con la madre che le ha rivelato di non averla mai voluta. Quattro tra fratelli e sorelle nati da padri diversi dal suo un continuo rincorrere il sogno di una felicità mai arrivata. La giovane donna aveva tentato per due volte di togliersi la vita. Proprio questa fragilità psicologica potrebbe aver giocato un ruolo nella storia nera del suo bambino. Gli investigatori a questo punto pur senza scriverlo nei rapporti ormai lavorano su quelle che definiscono le bugie della madre. Mamma Veronica è stata più volte interrogata ed è allarmata da una ulteriore e improvvisa perquisizione. Ore e ore di ricerche vengono effettuate nella sua casa per controllare ogni angolo repertare oggetti sequestrarne altri a cominciare da un altro computer. Gli inquirenti vanno via tardasserata con pacchi di carte libri appunti anche un cellulare e un tablet di Loris e dopo meticolosi esami di una squadra della scientifica che ha sparso luminol per la casa a caccia di tracce utili all'inchiesta soprattutto nel garage. Dall'autopsia nel frattempo emergono nuovi drammatici dettagli sulla storia già nera di Loris. Secondo i medici legali il bambino avrebbe potuto essere verosimilmente ancora in vita quando è stato gettato nel canale vicino al mulino. Gli accertamenti suggeriscono che è probabile che il piccolo non fosse clinicamente morto anche se comunque sarebbe stato difficile se non impossibile salvarlo. E arriva un'altra rivelazione quest'ultima contenuta nel rapporto di polizia e carabinieri. L'auto di Veronica Panarello è transitata a 50 metri dalla strada che porta a Mulino Vecchio il luogo dove è stato trovato il cadavere. Veronica è rimasta sulla strada del Mulino Vecchio per 6 minuti in più rispetto alla tabella di marcia. Secondo gli inquirenti due telecamere hanno ripreso l'auto della madre di Loris la mattina di sabato 29 novembre impiegare 9 minuti per percorrere un tratto di strada vicino al Mulino Vecchio che normalmente si percorre in 3 minuti. Gli investigatori ora vogliono capire cosa è accaduto in quei 6 minuti di troppo ma il dato forse più importante tra quelli emersi è che secondo le ricostruzioni degli investigatori madre e figlio sono rimasti a casa insieme per ben 36 minuti dopo che entrambi erano usciti in macchina e poi rientrati separatamente. Quindi Loris non è mai arrivato a scuola la mattina del 29 novembre ma è tornato a casa da solo alle 8.32 subito dopo essere uscito 17 minuti dopo alle 8.49 è rientrata anche la madre Veronica per poi uscire nuovamente 36 minuti dopo alle 9.25 circa. La madre è quindi rimasta 36 minuti con il figlio prima che del piccolo Loris si perdessero le tracce. Il padre di Loris Davide ha inoltre consegnato su pressione della stessa Veronica materiale scolastico tra cui delle fascette di plastica alle maestre di Loris che si sono recate a casa per fare le condoglianze stando a Davide le fascette sarebbero dovute servire al bambino nei lavori in classe proprio il giorno in cui è scomparso caso vuole che proprio queste fascette sembrino compatibili con quelle utilizzate per strangolare il piccolo le maestre però sono rimaste sorprese perché non avevano mai chiesto di portare a scuola questo tipo di materiale le fascette sono pericolose e quindi non era previsto il loro utilizzo da parte dei bambini una delle due insegnanti ha deciso di chiamare la questura per consegnarle agli investigatori la donna ha ribadito che in classe non è mai entrato del materiale pericoloso la polizia ha acquisito anche il gps della macchina di Veronica per avere conferme sul percorso in auto che sostiene di aver fatto la mattina di sabato in particolare per verificare se la donna si è recata o meno al mulino vecchio emerge inoltre che Orazio Fidone il cacciatore che ha trovato il piccolo Loris ha un alibi la mattina di sabato 29 novembre è stato visto da più persone in un altro posto e non a Santa Croce Camerina non avendo l'uomo il dono dell'ubiquità ha un alibi di ferro nel frattempo emergono con precisione tutte le problematiche che aveva Veronica quando era piccola nel 2003 ha tentato il suo io bevendo candeggina perché aveva litigato con i suoi compagni di scuola un anno dopo nel 2004 Veronica ascolta una conversazione telefonica tra sua madre Carmela e un amico va quindi dal marito di sua madre che stava dormendo per dirgli che Carmela aveva un amante l'uomo non solo non si interessa della cosa le dice di lasciarlo in pace e le dà uno schiaffo a questo punto Veronica cosa fa? esce e poco dopo Carmela si trova a casa una pattuglia dei carabinieri hanno soccorso pochi minuti prima la ragazza che aveva provato a impiccarsi con un manicotto di plastica in una serra vicino casa in preda alla disperazione per paura che sua madre potesse abbandonare la famiglia oggi il dettaglio del tentato sembra quasi un particolare da libro giallo e come ovvio è diventato importante per l'inchiesta perché certo non sfugge la strana coincidenza di una madre che vuole togliersi la vita in quel modo e di suo figlio che a distanza di anni viene ritrovato morto in un canale ucciso proprio da una fascetta da elettricista dopo l'episodio del 2004 Veronica viene ricoverata in psichiatria all'ospedale di Ragusa ma dopo poco chiama sua madre dicendole testuali parole ti prego vieni a prendermi c'è un infermiere che mi ha fatto violenza mentre ero sotto gli effetti di psicofarmaci quanto detto dalla ragazza non è mai stato confermato dai fatti un'altra presunta violenza risale invece al 2002 Carmela racconta che Veronica frequentava un ragazzo che aveva provato a violentarla ma lei era riuscita a scappare il ragazzo era stato denunciato ma non è mai stata emessa alcuna condanna in un'altra occasione inventò addirittura un rapimento era il 2003 Carmela e Paolo uno dei fratelli scesero dalla macchina lasciando sulla Veronica quando tornarono la giovane disse che un uomo era salito in auto aveva cercato di mettere in moto e partire insieme a lei lunedì 8 dicembre Veronica Panarello viene fermata nella notte con l'accusa di aver ucciso il figlio viene sottoposta a interrogatorio per 5 ore e malgrado le puntuali contestazioni dei magistrati rimane ferma sulla sua versione dei fatti al termine dell'interrogatorio afferma io collaboro collaboro ma non ho ucciso mio figlio ma per gli inquirenti Veronica Panarello avrebbe provocato la morte di Loris per soffocamento aggredendolo mediante azione di strangolamento portata con l'uso di una fascetta stringicago in plastica questo è quanto scritto dai PM di Ragusa nel decreto di fermo in cui contestano alla donna l'aggravante della crudeltà e del legame di parentela per i PM Veronica è responsabile dell'omicidio di suo figlio con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo e parlano di gravi indizi di colpevolezza nei confronti della mamma del piccolo Loris al termine dell'interrogatorio durante il quale le è stato prelevato il DNA Veronica è stata trasferita nel carcere di Catania secondo quanto scritto nel decreto di fermo emesso nei confronti della mamma di Loris l'esame dei filmati e le testimonianze consentivano di documentare oltre ogni ragionevole dubbio che il piccolo Loris non uscì più dal condominio dopo essere tornato a casa ma non sono solo le telecamera ad incastrare Veronica Panarello anche i suoi più stetti familiari pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo del piccolo Loris hanno dei dubbi su quanto raccontato dalla donna lo rivela un'intercettazione riportata nel decreto di fermo tra la madre e la sorella di Veronica una telefonata che arriva subito dopo che la sorella della mamma di Loris è stata portata a fare un sopralluogo nei pressi del mulino vecchio Veronica ha infatti raccontato agli investigatori di non conoscere la zona la sorella rivela invece che quando erano piccole vivevano a circa due chilometri da lì e andavano a prendere l'acqua ad una fontana a 50 metri dal mulino arriviamo al 9 dicembre intorno alle 13.30 un inviato di chi l'ha visto rinviene una fascetta bianca da elettricista parzialmente bruciata sul luogo del ritrovamento del corpo di Loris Stival l'inviato avvisa subito i carabinieri presenti che pochi minuti dopo trovano un'altra fascetta nera poco distante nei pressi del mulino vecchio i militari hanno fotografato le fascette per un immediato riscontro da parte degli inquirenti nel decreto di fermo contro Veronica Panarello che secondo la procura è capace di agire con sorprendente cinismo le parole di sua mamma e di sua sorella pesano quanto le telecamere che smentiscono il suo racconto la madre ha messo a verbale che lei e il marito si sono accorti che Veronica fin da bambina soffriva di manie persecutorie era aggressiva e violenta Carmela spiega che con sua figlia ha un rapporto difficile fin da quando era piccola e anche la sorella Antonella racconta che tra lei e Veronica non c'è mai stato un buon rapporto stando alle sue parole Veronica era la prediletta dai genitori e quando i due si sono separati nel 2004 Veronica è andata a vivere con Davide Stival e da quel momento non ha più voluto avere rapporti con sua madre accusandola di averla abbandonata invece sostiene la sorella è stata Veronica a lasciare sola la mamma Antonella Panarello ha confermato che la sua famiglia quindi anche Veronica in passato andava a rifornirsi di acqua da una fonte non lontana dal murino vecchio dove è stato trovato il corpo del bambino l'11 dicembre Veronica sostiene un altro interrogatorio questa volta di 4 ore la donna è stata sentita dal GIP alla presenza del sostituto procuratore ha risposto a tutte le domande e ha urlato di nuovo di essere innocente Antonella la sorella di Veronica spiega che non la sentiva dal 2004 e aggiunge che quando erano piccole e vivevano in provincia di Savona voleva buttarsi dalla finestra dell'asilo poi aggiunge che risulta che Veronica avesse più utenze telefoniche aveva nascosto bene un cellulare che conteneva le foto e i video di Loris intanto Veronica non cede neanche davanti al GIP durante l'interrogatorio di garanzia il lacrime afferma signor giudice la prego non sono stata io la donna spiega di aver consegnato le fascette di plastica alle maestre per dare un contributo all'accertamento della verità ripete che ha accompagnato Loris vicino a scuola quel sabato 29 novembre e aggiunge che una vigilessa era lì in servizio e l'aveva vista il 12 dicembre il GIP convalida il fermo di Veronica Panarello il giudice per le indagini preliminari scrive che la ricostruzione dell'accusa è ammissibile l'ordinanza è stata giustificata da un fondato pericolo di fuga della donna dai suoi comportamenti si desume che ha un'indole violenta e che è incapace di controllare gli impulsi omicidi secondo il giudice oltre al pericolo di fuga c'è anche quello che possa commettere gravi delitti della stessa specie nella ricostruzione dei fatti la mamma di Loris non era dove affermava di essere stata ma altrove e ci sono prove a conferma di questo la vettura della donna il 29 novembre risulta essere passata per due volte dal mulino vecchio dove è stato trovato il corpo del bambino dalla ricostruzione quindi emerge nei confronti di Veronica Panarello un quadro indiziario di rilevante gravità per l'omicidio del figlio Veronica ha avuto il tempo e l'occasione per uccidere il figlio strangolandolo presumibilmente con una fascetta in plastica che aveva a disposizione poi ha gettato il corpo esanime del piccolo Loris nel canale di Scolo dove è stato trovato nel pomeriggio del 29 novembre il giudice ha risottolineato la cenica condotta tenuta da Veronica e l'evidente volontà di infliggere alla vittima sofferenze con un'azione efferata priva del più elementare senso d'umana pietà secondo il giudice la mancanza di elementi per comprendere il movente del gravissimo gesto non assume rilevanza intanto si verifica una svolta nelle indagini che potrebbe far luce sul nuovente dell'omicidio è stato infatti sequestrato dagli inquirenti di Ragusa un telefono cellulare con utenza intestata a un'amica di Veronica che sembra essere stato usato per alcuni giorni dalla madre del piccolo Loris sarebbe questo il telefonino segreto di cui aveva parlato la sorella Antonella e che è all'esame degli investigatori a rivelare di aver usufruito di quel telefonino sembra sia stata la stessa mamma di Loris parlando con gli investigatori ci sono poi le fascette compatibili per dimensione e forma secondo la procura con lo strumento usato per togliere la vita al piccolo Loris fascette stringicavo che ricordiamo sono state consegnate dalla stessa Veronica alle maestre del bambino con giustificazioni poco credibili tra l'altro arriviamo al 20 dicembre Veronica viene trasferita dal carcere di Catania a quello di Agrigento il marito non è mai andato a trovarla in carcere e per quanto cerchi di convincersi che la donna con cui ha condiviso dieci anni della sua vita sia innocente purtroppo ci sono tanti indizi che lo fanno dubitare il 6 gennaio infine Davide va a trovare Veronica in carcere ad Agrigento lei continua a professarsi innocente Davide però le risponde che le telecamere dicono ben altro questo incontro che si è svolto nella sala colloqui del carcere di Agrigento non ha fatto riavvicinare marito e moglie ognuno dei due è rimasto fermo sulle proprie posizioni Davide sostiene che le immagini parlano chiaro e crede di più alla procura che a sua moglie la sua decisione è ferma non tornerà più a trovare Veronica perché non sopporta di sentire le sue bugie i magistrati del riesame di Catania hanno giudicato Veronica Panarello una lucidissima assassina la donna ha la capacità di elaborare pronte strategie manipolatorie e possiede una insospettabile tenuta psicologica questo conferma la sua elevatissima capacità criminale Veronica quindi con agghiacciante indifferenza ha agito da lucidissima assassina manifestando una pronta reazione al delitto di cui si è resa responsabile organizzando l'apparente rapimento del figlio Loris l'indagata secondo gli inquirenti ha mantenuto una totale freddezza nell'ordire la simulazione di un rapimento e una impressionante determinazione nel liberarsi del cadavere del figlio scaraventandolo nel canalone per lucidamente occultare le prove del crimine secondo i giudici la ricostruzione accusatoria è ulteriormente confermata da alcuni elementi per prima cosa il dato oggettivo che Loris a scuola la mattina del 29 non ci è mai arrivato in secondo luogo l'illogico ritorno a casa di Veronica per sbrigare faccende domestiche nonostante l'appuntamento al castello di Donna Fugata fissato per le 9.30 per il tribunale l'indagata descrive percorsi illogici e mente spudoratamente per accreditare una normale quotidianità sconfessata dalle sue artificiose ricostruzioni inoltre si legge nelle motivazioni tutte le versioni della panarello sono dense così come rettamente dedotto dall'accusa di incongruenze menzogne e ricordi postumi per quanto riguarda le fascette consegnate alle maestre due giorni dopo il delitto i giudici scrivono che l'iniziativa è da ritenersi dolorosamente preordinata a liberarsi dal macigno accusatorio della disponibilità del reperto a questo punto resta una domanda perché veronica ha ucciso loris per una rabbia incontenibile legata al fallimento del piano mattutino che evidentemente quel giorno non prevedeva l'ingombrante presenza del suo primo genito loris insomma quella mattina secondo i giudici avrebbe sconvolto i pieni di veronica volendo rimanere con lei anziché andare a scuola forse perché ipotizzano i giudici incuriosito dal suo look esteticamente curato di veronica troppo per un corso di cucina l'assenza di prove sicure porta il tribunale a ritenere che la donna esasperata per il comportamento del figlio sia rientrata in casa per controllarlo qui in preda un'incontenibile impulsiva furia aggressiva ha soppresso il bambino stringendogli al collo un cappio con le fascette che aveva portata di mano e poi legandogli i polsi verosimilmente per simulare un omicidio a sfondo intimo con sevizie ad opere di un estraneo la donna resta in carcere perché è evidente il rischio di inquinamento probatorio di cui l'indagata potrebbe rendersi artefice ma non solo c'è anche il concreto rischio di recidiva perché ha dimostrato un'odiosissima crudeltà e assenza di pietà nel delitto con una totale incapacità di controllare la furia omicida il 6 agosto veronica ottiene un permesso dal jeep di ragusa per andare a pregare sulla tomba del figlio arriva al cimitero a bordo di un furgone della polizia penitenziaria scortata dalla polizia di stato davanti alla tomba del figlio la donna ripete scoprirò chi è stato e prega per quasi un'ora di seguito arriviamo al 17 novembre quando veronica cambia versione suo figlio sarebbe morto mentre giocava con delle fascette elettriche vittima di un incidente dopo aver fatto di tutto per salvare loris che quindi si è strangolato con una fascetta a casa mentre veronica era impegnata nei lavori domestici la donna in preda al panico ha preso il corpo del bambino per poi adagiarlo nel canalone di mulino vecchio ritenendo che nessuno avrebbe creduto alla sua versione dei fatti e non sapendo come giustificarsi veronica ha deciso di liberarsi del corpo del figlio e di gettare successivamente lo zaino del bambino lungo la strada per donna fugata il 12 febbraio cambia di nuovo versione dicendo che loris è stato ucciso da suo suocero in quanto erano amanti ha raccontato una psicologa del carcere di aver ricordato tutto quando è andata al cimitero ma non ha detto nulla perché temeva che suo suocero uccidesse anche il bambino più piccolo la direzione della prigione ha subito informato la procura di ragusa ma ai magistrati che l'hanno sentita su sua richiesta sembra che veronica non abbia detto nulla di rilevante sostenendo che è diventata famosa e che la conoscono anche ad hollywood ovviamente la smentita del nonno di loris è immediata dichiara di essere tranquillo perché la sua posizione è già stata vagliata da investigatori e magistratura dettagliatamente secondo il racconto di veronica il giorno del delitto ha incontrato andrea stival suo suocero tornando da scuola l'uomo sarebbe salito in auto con lei sdraiandosi sul sedile posteriore per non farsi notare i due sono poi saliti a casa dove c'era loris che sostiene veronica minacciava di rivelare al padre la relazione tra il nonno e la mamma il nonno quindi lo ha ucciso strangolandolo con un cavo elettrico e ha costretto la madre a mettergli delle fascette alle mani per farlo stare fermo insieme hanno gettato il corpo del bambino nel canalone nel frattempo è stata finalmente archiviata la posizione di Orazio Fidone il cacciatore che ha trovato il corpo del piccolo loris andrea stival è ora indagato per omicidio e occultamento di cadavere un atto dovuto dopo le dichiarazioni di veronica che lo ha chiamato in correità sostenendo che erano amanti e che sarebbe stato lui ad uccidere il bambino per il legale di andrea il suo assistito è estraneo alle accuse mosse dalla nuora che quereleremo per calunnia appena avremo gli atti delle sue dichiarazioni non ha ucciso loris e non era l'amante di veronica panarello il legale di davide stival il papà di loris ha aggiunto la nuova versione di veronica panarello appare contraddittoria e poco credibile anche se gli approfondimenti che i PM di ragusa riterranno di fare contribuiranno certamente in un senso o nell'altro al raggiungimento della verità un balletto di versioni che ci lascia ancora una volta frastornati adesso non ci resta che confidare nell'operato della magistratura il 5 ottobre emerge che davide stival ha chiesto a veronica 2 milioni per sé e 2 milioni per la nonna del bambino quindi sua madre a titolo di risarcimento le richieste di risarcimento dei danni ammontano invece a 400 mila euro per Andrea Stival nonno di loris secondo l'ultima versione della panarello ricordiamo ad uccidere il figlio sarebbe stato Andrea Stival da solo racconta che le è squillato il cellulare è andata in un'altra stanza e una volta rientrata ha trovato suo figlio strangolato con un cavetto usb lo ha fatto perché loris aveva scoperto la loro relazione e voleva raccontare tutto a davide Veronica durante l'udienza in tribunale afferma sono pronta ad essere punita ma per quello che ho fatto e non per quello che non ho commesso se ci sono mie responsabilità pagherò ma con me deve farlo anche l'esecutore materiale del delitto mio suocero non voglio esimermi dalle mie responsabilità e voglio essere punita ma voglio essere punita per quello che ho commesso e non per quello che non ho fatto non posso dire assolutamente neanche sotto costrizione di essere stata io a uccidere mio figlio la procura di Ragusa pur non credendo a Veronica ha ammesso che il movente fornito dall'imputata può essere plausibile e che seppur non dimostrabile non si può escludere che tra il suocere e la nuora potesse esserci una relazione extraconiugale ed ora ripercorriamo brevemente tutte le versioni di Veronica Panarello sulla triste vicenda di Loris nella prima la donna dice l'ho accompagnato a scuola e all'uscita non l'ho trovato nella seconda afferma è rientrato a casa senza andare a lezione ma non ricordo altro nella terza è stato un incidente è morto mentre stava giocando con delle fascette e infine l'ultima versione l'ha ucciso mio suocero Andrea Stival per impedirgli di rivelare che era il mio amante la donna non si è più discostata da questa ultima versione e ha accusato quindi il suocero Andrea ma la procura non le crede così come il Gup di Ragusa che l'ha condannata a 30 anni il giudice per le udienze preliminari Andrea Lea Reale il giudice per le udienze preliminari Andrea Reale nelle 194 pagine di motivazione della condanna a 30 anni di reclusione di Veronica Panarello per l'uccisione del figlio Loris di 8 anni scrive il falso alibi fornito le diverse versioni sui fatti le plurime contraddizioni i tentativi di accusare altre persone la condotta processuale spregiudicata e calunniosa ribadita in forma glaciale e senza tentennamenti anche davanti al giudice costituiscono con prova dell'inverossomiglianza di amnesie dissociative retrograde il falso alibi fornito le diverse versioni sui fatti le plurime contraddizioni i tentativi di accusare altre persone la condotta processuale spregiudicata e calunniosa ribadita in forma glaciale senza tentennamenti anche davanti al giudice costituiscono con prova dell'inverossimiglianza di amnesie dissociative retrograde l'omicidio sarebbe maturato per un dolo di impeto nato dal rifiuto del bambino di andare a scuola quella mattina e dal diverbio avuto con la madre oltre che per un impulso incontrollabile uno stato passionale momentaneo della donna veronica panarello avrebbe eseguito rapidamente l'efferato gesto portandolo a compimento con lucida e spietata freddezza ma anche con molta precisione non ci sarebbe stata alcuna premeditazione visto che il proposito omicidiario è insorto nella sua mente soltanto nella prima mattina del 29 novembre 2014 a seguito del litigio con il figlio ne esce invece pulito il suocero Andrea Stival fortunatamente il group Andrea Reale scrive un movente turpe gravissimo sconvolgente forse l'unico capace di poter in qualche modo giustificare quella emotività e quello stato passionale che avrebbero costituito il presupposto dell'omicidio del figlio una circostanza che però non trova alcun riscontro in quelle ore Andrea Stival si trovava con la compagna un alibi che deve considerarsi forte e credibile Veronica Panarello quindi ha agito da sola con un'evidente intenzione omicidiaria a parte la presenza di tratti disarmonici di personalità e di l'abilità emotiva Veronica non presenta disturbi dell'area psicotica della coscienza o delle percezioni secondo uno dei periti il disturbo narcisistico e istrionico della donna sarebbe correlato a quelli che si attribuiscono a psicopatici bisognosi di considerazione la perizia secondo il giudice è un ulteriore indizio carico dell'imputata emergendo una personalità in conflitto con sé e con i propri familiari immatura sotto il profilo genitoriale menzognera e fortemente istrionica egocentrica manipolatrice desiderosa di catturare le attenzioni di chi le sta vicino e di porsi al centro di tutto ciò che la circonda a causa anche delle carenze affettive delle quali aveva sicuramente sofferto da adolescente il giudice cita il figlicidio per vendetta quello che successivamente è stato ribattezzato sindrome di medea ultimamente indicato dagli esperti come figlicidio motivato da rivalsa che colpisce il suocero oltre che il marito e il figlio in una spirale di cieca distruzione della idea di famiglia e dei valori che essa stessa incarna secondo il gruppo la donna ha trasferito nel figlio e nel rapporto con lui le frustrazioni e l'odio patito nella sua famiglia d'origine ha riversato in Loris le incomprensioni avute con le proprie inconsistenti figure genitoriali il 5 luglio del 2018 la corte d'assesa d'appello di Catania conferma la condanna di Veronica Panarello il 21 novembre 2019 la Cassazione conferma i 30 anni di carcere detto questo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso sicuramente lo conoscevate perché è un caso molto molto famoso sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni perché io credo che Veronica non abbia mai ammesso la verità mai nonostante siano passati anni poi magari mi sbaglio e se mi sbaglio correggetemi io però non ho trovato fonti a riguardo quindi insomma fatemi sapere cosa ne pensate della personalità di Veronica cosa ne pensate della situazione fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non faciate nulla di criminale ciao a tutti